per te uno successo personale oltre a quello di squadra successo personale soprattutto grazie alla squadra perché è così da solo non si può fare nulla lo sappiamo tutti lo so anche io in primis grazie alla squadra che ho raggiunto questo obiettivo che poi la mvp è una cosa in più veramente sarei stato tristissimo a prendere questo premio se non ci fosse stato l'oro quindi questo è proprio un plus e adesso si festeggia finalmente possiamo dire che si festeggia due set facili poi insomma avete accusato un po la rimonta degli avversari ma il quinto devastante due set facili no perché siamo partiti fortissimo noi li abbiamo messi sotto subito poi loro ci sono ripreso un sacco in difesa e ci ha messo veramente in difficoltà perché palla difesa all'ora e quindi hanno un attimo in difficoltà ultimo set ci siamo guardati ha detto lo facciamo per noi lo facciamo per le nostre amici e la nostra famiglia per il pubblico quindi ti ho spinto siete il volley del presente siete il volley del futuro dove volete arrivare in alto come adesso come si sta qua in alto si sta da avesse una parte quindi qui